Ero preoccupata per le unghie oggi, ma questo è il vero problema oggi ragazzi Buongiorno bellissime fiamme, come state? Benvenuti in questo nuovissimo super video Lo fate con me ogni volta? Spero di sì Io mi immagino voi che siete tipo sul divano a fare Nuovissimo super video su Fielan, sì Spero che abbiamo un'energia fortissima oggi Prima di iniziare in questo nuovissimo super video, beh, questo è un indizio Ci tenevo a condividere un pensiero con voi, anzi un compito per noi fiamme questa settimana Se ci arriva una sfida, un momento difficile, questo è il compito, noi balliamo Voglio che voi vi lanciate in una mossa super sexy bellissima di ballo, va bene? Senza dire altro iniziamo questo video pazzesco Perché non ho fatto tempo per tagliare le unghie? Lascia un like per le mie povere unghie oggi Ragazzi, si ricorda dell'italiano Ian? Non so se vi ricordate di lui, ma è un ginnasta della squadra nazionale americana E oggi mi insegnerà il suo elemento che ha creato nel codice Che è una lettera Z nel codice Z Non è vero, non è una lettera Z Però è incredibilmente difficile E oggi venendo qua mi hai dato la fantastica idea di provarla sullo stagio maschile Che, vabbè Molto difficile Molto molto difficile Bravo Ian Grazie Duolingo Duolingo Ecco perché è fluente in italiano Ian Duolingo lap Gli ho chiesto come si fa ad imparare l'elemento, quali esercizi si fa per terra E mi dice che se riesco a fare la gran volta e se riesco a fare un caccio, allora sono pronta E quindi io rimango terrificata E quindi io rimango terrificata Non mi sono riuscita Non mi sono riuscita Ma come si fa le piccole? E' così come si prepara un po' di noi Io mi sono riuscita Mi sono riuscita Non mi sono riuscita Ok, sono già stagga Quindi Quindi Vincere lui You have to jump up out of that? Yeah, kind of like a ball out Oh my gosh Oh my Oh my Okay Like that And grow And like Use Yeah Before you flip it over You get more like a circle Like So you get as much pressure back on the bar as long as possible Play it like this Yeah Yeah, but like Perfect I love it I feel that Grab it Grab it But then you grab it here, right? Yeah I grab it on your grip Some people do it Oh my gosh That's so hard How do you spin the bar that fast? You don't I'm scared So you almost want to block in front of the bar It's like they're watching us and we're like Yeah Like just like this Oh my gosh We've had a change of plans Guys He does it on the female parallel The man is wearing green grips on the Neva bar Can't wait to see his back Let's get it Oh, you really are Go in front of the bar 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 You don't need to swing down there Boom Boom Alright That's so fun It's so easy It's so easy Oh no That's so fun That's so easy Okay Ah That was insane Provo a girarlo Dovrei fare il salto in avanti adesso per quello che abbiamo tolto il tappeto Molto! Oh no! Oh no! Oh no! Oh! 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 Massive! Enorme! Incredibile! That is incredible! That is so cool to watch! Oh no! Trust it! Yeah! All right! This is the one! I'm counting! Come on! Get his wrist! Tap! Pull it! Wow! She can do this! I believe in her! So that's to do an earlier tap! And be brave! But she's brave! She can do it! Even more! Don't take her back! Okay, kind of! That was it! Allora sto provando adesso sto incignetti per capire la frustata perché io per il kachev ho una frustata completamente diversa che faccio uno, carpiata, arco sotto, candela e poi stacco. Invece lui lo fa come un kachev della maschile. Ho visto alcune ragazze farlo anche, ma praticamente inizio subito con le spalle che scendono per poi fare candela. Quindi sto cercando di capire questo e poi magari riprovo su. Con mezzo boostivo calcode con le inizio subito con il tambi". No, 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 no. Come ti senti? Ti sento una rip? Ti sento una rip? Questo è come mi sento. Tempo a capire il tempo. Tempo per capire il tempo, ecco, prima di girarla. Questo video ha avuto una fine veramente tragica e terribile. Terribile. Ma io ti prendo una malestra. Tornerò qua però, lo capirò, e ve lo faccio vedere in un video. Ve lo prometto, fiamme. E ciao, fiamme. Ciao, fiamme. Ecco, ecco, al prossimo video e che il fuoco è dentro di voi. Ciao!